Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te. Bentornati all'ennesima puntata delle fritte. Ciao Marco. Ciao Pietro. Covid free, le fritte. Covid free anche questa volta, anche se la situazione in Belgio pare stia migliorando leggermente. Oggi il titolo della trasmissione è La società della cura. Oggi parliamo fondamentalmente di un manifesto che è stato presentato ormai diversi mesi fa in Italia da un pool vastissimo di associazioni, della società civile, dall'Arci, movimenti ambientalisti, le donne, c'è un po' di tutto e ci dà la possibilità di fare una riflessione ancora di più rispetto a quanto abbiamo fatto in passato rispetto a dove il Covid ci sta portando. Le contraddizioni che l'emergenza Covid ha portato chiarissimamente alla luce e quindi il manifesto un po' va nella direzione che io e Marco abbiamo auspicato fin dall'inizio. Insomma, non sta andando tutto bene, ma vorremmo che andasse meglio, diciamo, di quanto è la situazione adesso. Allora Marco, intanto faccio un cappellino di questo manifesto. Diciamo uno slogan, tanto per iniziare. Sarebbe il caso di passare da quella che è la società della prestazione, quello che ha dominato adesso, in cui ci si chiede sempre una prestazione perché tutto è quantitativo. non c'è lo sviluppo, ma c'è la crescita, la dittatura delle PIL, i numeri e tutto quanto ha una società della cura, una società che è attenta allo sviluppo, a uno sviluppo che non è solo quantitativo, ma che sia principalmente qualitativo. Noi abbiamo visto che tutto un modello organizzativo, sociale, economico, a fronte della pandemia è saltato. Ma è saltato perché è costruito per una logica ingestibile, da un punto di vista ambientale, in primis, però quello non frega niente a nessuno. E poi è venuto fuori, i nodi sono venuti al pettine nel momento della pandemia. Facciamo alcuni esempi banali per capirsi, per non parlare solo di grandi cose astratte. Noi, l'Italia, ma non solo l'Italia, in generale i paesi del Mediterraneo, ma non solo, ad esempio negli ultimi 40 anni abbiamo avuto un modello in cui non c'era più la produzione manufatturiera, si è ridotta di molto, e la gente che non lavorava più in questo settore, a parte i servizi, andare nei servizi e nel terziario, è diventata con questa logica dell'imprenditore di se stessi e abbiamo, voi fate una passeggiata a Roma, a Milano, a Firenze, nelle grandi città turistiche, Napoli, Venezia, e che ci avete? Un ristorante, un bar, un pub, una pizzazzata, ogni dieci metri. Questo funziona anche economicamente nella logica del turismo di massa, in cui hai milioni di persone che si muovono, forse natamente, per il globo terraqueo, grazie ai low cost, grazie a tante altre cose, ma come questo meccanismo si blocca? Da un lato hai la riscoperta delle città, queste città che si trovano, ritornano a essere belle per alcuni versi, ma dall'altro lato salta completamente tutto il modello economico su cui si basavano. Un altro esempio, le abitazioni trasformate, soprattutto nelle grandi città, quasi tutti gli appartamenti che non sono utilizzati dai proprietari vanno in Airbnb, invece di andare sul mercato dell'affitto. A chi non ha una casa di proprietà ha bisogno di una casa. Anche questo salta il meccanismo del turismo di massa e salta tutto il meccanismo economico. Questi Airbnb restano vuoti e viva Dio restano vuoti. Su questo Marco diciamo anche un'altra cosa. Qui non stiamo parlando della gentrificazione che aiuta chi abita nella prima periferia vicino al centro ad affittare una camera in più ed arrotondare. È un discorso diverso, perché se uno guarda i numeri, in Spagna credo sia venuto fuori questa cosa a Berlino, dove il governo berlinese sta tassando le grandi imprese che affittano tanti appartamenti. Il 90% del mercato è coperto su Airbnb da aziende e proprietari che hanno più di 50 appartamenti. Parliamo di numeri strepitosi, non parliamo di quello piccolino. Questo è giusto dirlo perché qualcuno potrebbe dire, ne conosciamo. Io ho una piccola stanzetta a casa mia, Airbnb mi serviva, ma non è quello effettivamente il problema. Quando si parla di patrimoniale, tutti dicono, da me vogliamo tassare la casetta mia piccolina. No, si parla dei grandi redditi, si parla di redditi sopra il milione di euro, quindi non è che i risparmietti di una vita vengono a prendere di petto a te, anche perché i numeri che servono sono ben alti. Questo discorso per esempio di un modello completamente differente si parla molto della sanità, logicamente, durante la pandemia. Adesso tutti hanno scoperto che i tagli celebrati per anni, le privatizzazioni celebrate per anni non funzionano. Allora addio la sanità, la sanità, ritorniamo. Poi hai i medici che rispondono e dicono, sì, ma mancano i colleghi. Esatto, c'è anche i momenti. Assumiamoli. E dove? Se sono 30 anni che avete il numero chiuso in tutte le facoltà di medicina, quindi la quantità di professionisti che si formano è limitata. Poi molti per i blocchi dell'impiego nella pubblica amministrazione sono andati fuori. L'altro giorno in televisione mi è capitato di sentire un celeberrimo opinionista questa sera a dire andiamoli a riprendere. Andiamoli a riprendere e mandi i carabinieri in giro per il mondo a prendere la gente italiana che si è formata e che è andata a lavorare e che sta facendo il lavoro necessario in un altro paese. Oppure c'è questo famoso personaggio non opinionista ma di una parte politica che ha chiesto alle ONG che hanno dottori e medici all'estero in teatri di guerra, eccetera, di lasciare di improvviso queste cose e di riportare i medici italiani. È una versione piuttosto, c'è una visione del mondo un po' particolare rispetto alle... anche perché la stessa forza politica di questo personaggio ce l'ha sempre con l'ONG che dice che fanno le invasioni e quindi anche questo c'è una sorta di bipolarismo mentale attorno a questa cosa. Direi quindi, niente, noi volevamo fare questa trasmissione e anche dare un pochino di spazio del nostro piccolo a questo manifesto perché veramente qui a un certo punto usciremo dalla pandemia, arriverà il vaccino, tutto quello che è, però se non cambia il modello di sviluppo sarà un intervallo prima della prossima pandemia o prima di un'altra sciagura alla quale non siamo attrezzati e il modello della prestazione appunto, il modello della quantitativo che non funziona e a parte appunto tutti i discorsi che anche come Fritte nel nostro piccolo abbiamo sempre riportato rispetto alla centralità della questione ambientale, abbiamo bisogno di un modello completamente differente. E chi lo paga questo modello di sviluppo? Perché poi la domanda è sempre quella, diceva Carletto. Certamente le transizioni costano, allora intanto c'è una quantità di denaro messa a disposizione dall'Unione Europea che andrebbe speso bene e andrebbe speso, perché ricordiamo sempre che l'Italia è nel top 5 dei paesi che non riescono a spendere i soldi disponibili, perché mancano le infrastrutture, mancano le idee, tutto è farraginoso e quindi anche quando ci sarebbero i soldi non vengono spesi. Dopodiché non è andato tutto bene, anche perché c'è qualcuno che si è arricchito ulteriormente in questo periodo di pandemia e a fronte di tanta gente che invece si è impoverita. Quindi a parte i soldi internazionali dell'Unione Europea e della BCE, bisogna andare a prendere i soldi dove stanno e in Italia ci sono persone che ce ne hanno tante, società che ne hanno tanti e lì vanno presi i soldi, presi dai piccoli risparmi di chi è riuscito a mettersi da parte, quando si parla di patrimoniale non si parla di tassa sulla casa che già esiste in Italia, a parte la prima casa, e questo probabilmente è qualche cosa che andrebbe modificato, perché nei paesi in cui noi viviamo non esiste l'essenzione totale della prima casa, però esiste già una patrimoniale sulle seconde e altre appartamenti, ma ci sono dei redditi, dei redditi alti, nonostante l'evasione, dei redditi alti dichiarati, ci sono i movimenti di capitale, la rendita finanziaria che è tassata molto poco per un gioco di competizione fra i differenti paesi europei e questa è una delle cose più drammatiche dell'Unione Europea, l'incapacità di intervenire su questo e di permettere questo gioco al ribasso per cui si attirano le grandi multinazionali nel proprio paese offrendo delle tassazioni ridicole sui profitti e questo deve essere cambiato. Chiudiamo così Marco, nella speranza che il manifesto della società della cura coinvolga anche gli italiani all'estero, che poi sono un po' vittime del sistema della quantità che dicevamo prima e che sia anche magari di esempio nei paesi dove gli emigrati vivono in modo che questo movimento si internazionalizzi in qualche modo, visto che poi almeno all'interno dell'Unione Europea molte di queste misure possono essere poi effettivamente fatte se sono pensate su scala continentale oggettivamente. Detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Facebook e sempre sugli altri canali social dell'Efritt insieme a Radiomir. A presto! Bellissimo, ciao!